Perché il sistema di gioco sono numeri, secondo me so anche quello lì, il sistema di gioco io ho sempre detto 4-4-2, 4-4, 1-1, 4-2-4, 4-4, senza palla è, due linee da quattro e due attaccanti, 4-2, sacchi, senza palla sono due linee da quattro e gli attaccanti poi li puoi far lavorare come te pare, solitamente uno dei due attaccanti se giochi contro una squadra che c'è il mediano basso, il regista, lo fai lavorare un po' sul mediano basso, per quanto riesca a farlo, però lo fai lavorare solitamente così, oppure puoi cambiare uscite, fai usciti gli attaccanti sui difensori centrali e qui ti organizzi con centrocampista e ci sono evoluzioni.